Si chiama Emma Shortell, è una ragazza di 32 anni di età, la quale ha compiuto una scelta di vita importante, azzardo a dire fondamentale, stravolgendo tutto quello che è il suo presente, quello che è il suo vivere, cambiando vita a 30 anni di età. Pensate infatti che questa giovane donna ha deciso di lasciare la città e addirittura il lavoro, un posto di lavoro, e trasferirsi, quindi andare a vivere su di un'isola. La donna avrebbe detto, finalmente io mi sento in pace con me stessa e non tornerei mai e mai più indietro, anche se volessi. Insomma, sembra che questo stravolgere la vita in maniera diretta e attenta e quindi meticolosa abbia portato la donna a essere soddisfatta di quello che ha fatto, non tornare indietro, non voler tornare indietro e ha voluto condividere questo lieto evento con il daily mail, facendo sapere che la sua vita adesso ha preso una piega diversa, è felice ed è contenta. Va bene? Anche grazie a Frazer, un esperto costruttore, che le ha dato una mano per, diciamo così, comprare una proprietà che potesse essere ampliata grazie a costui proprio. Va bene? Insomma, una vita diversa, una vita forse che non tutti farebbero, compierebbero, invece lei ha detto sì, voglio farla. Bene, detto fatto, iscrivetevi, commentate, ha avuto un gran coraggio.